Un sostegno ai progetti del terzo settore finanziati con le proprie erogazioni. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fanno punta ancora sulla solidarietà attraverso un bando crowdfunding dedicato ai settori dell'educazione, della salute, del volontariato e dell'ambiente. Possono partecipare gli enti e le associazioni con sede in questi comuni. L'iniziativa, che è svolta in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato della Regione Marche e con la piattaforma Rete del Dono, premiera i soggetti selezionati che andranno da un minimo di 5 ad un massimo di 10. Gli obiettivi della Fondazione, ha spiegato il Presidente Giorgio Gragnola, sono quelli di diffondere la cultura del dono, far crescere gli enti del terzo settore e fare in modo che le associazioni si mettano in rete con progetti comuni. Sono progetti che hanno una massima informazione, una massima diffusione e tutto viene tracciato sia da un punto di vista dei finanziamenti, sia da un punto di vista dell'utilizzo delle risorse. In questa prima iniziativa di crowdfunding, di raccolta fondi, la Fondazione ha ritenuto di impiegare un importo di 50 mila euro, oltre a sostenere tutti i costi che questa iniziativa produce. Ci sono due fasi. La prima fase è quella che è partita con la pubblicazione del bando, la cui scadenza è l'11 di giugno, dopodiché la Fondazione valuterà i progetti che sono arrivati e dal primo di ottobre fino al 31 dicembre sarà possibile per chiunque vorrà contribuire e partecipare al finanziamento di questi progetti inserirsi nella piattaforma e finanziare l'iniziativa. La Fondazione contribuisce con il raddoppio dei fondi fino ad un massimo di 5 mila euro o 10 mila euro a seconda delle iniziative e dei progetti che verranno pubblicati.